Io ho pensato che tu e io facciamo lo stesso mestiere, ristrutturiamo. Tu, la testa, e io, il corpo. Ora fissi attentamente un punto della stanza e ti nasce andare. Buon vivenza! Elia! Sono qui! Tira fuori il tuo caratteraccio, non pensare alla fatica, pensa che le puoi spaccare la faccia. Stop! Non mi interessa un fisico scolpito, chiaro? Beh, quello te lo puoi prescordare, scusa se te lo dico. Andiamo! Andiamo! Andiamo!